È un dato positivo, significa che siamo sulla strada giusta, c'è una crescita costante della raccolta differenziata, però dobbiamo migliorare. Significa che da qui in avanti dobbiamo incentivare ancora di più i nostri cittadini, i comuni, bisogna incrementare il porta a porta. Abbiamo 32 comuni nella nostra regione che ancora applicano la raccolta differenziata, quindi sarà compito della regione far sì che anche quei comuni che oggi non sono comuni ricicloni, che si possono adeguare a quello che è il principio delle buone pratiche ambientali. Di tutta la raccolta differenziata il 43%, quindi circa 116 kg per abitante, per avere un'idea, è destinata alla frazione organica, quindi umido e verde. Poi al secondo posto abbiamo carta e cartone, quindi circa il 18%, circa 50 kg per ogni abitante, per ogni anno. Noi da qui in avanti incontreremo, incontrerò anche i rappresentanti di queste filiere, quindi tutti coloro che rappresentano questa frazione merceologica per migliorare l'andamento della nostra regione. È chiaro che l'obiettivo è quello di aumentare ancora di più la raccolta differenziata, perché aumentare la raccolta differenziata significa far fare un salto di qualità alla nostra regione. Economia circolare non dialoga con l'inceneritore, sono due cose completamente diverse. Parlare di economia circolare significa dimenticarsi tutto il principio dell'use e getta, significa dimenticare tutta la politica che è stata fatta, che ha distrutto anche in modo irreversibile il nostro pianeta. E quindi significa passare ad un altro sistema, ad un'altra politica che prevede il riuso, il riciclaggio, che significa il rifiuto non più come un problema, ma effettivamente come una risorsa per tutti i cittadini e per il nostro pianeta. Noi stiamo lavorando in questa direzione, ma questo non significa rifiuti zero, significa che noi dobbiamo lavorare attraverso impianti che favoriscono la parte lo sviluppo, che da un'altra parte favorisce il riutilizzo del rifiuto e dall'altra parte produce magari anche opportunità lavorative. E parlo ad esempio degli impianti di valorizzazione dei rifiuti, che potrebbe essere un impianto della frazione organica, dove dalla frazione organica riusciamo a ottenere compost per l'agricoltura e produrre energia elettrica o biometano. Questo è economia circolare. Questa è la direzione che noi vogliamo far prendere alla nostra regione.